Il gruppo criminale che da mesi terrorizzava i migranti nella zona di Piazza della Libertà a Trieste, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 5 persone. Per celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a pochi giorni dall'omicidio di Giulia Cecchettin, questa mattina sotto l'alogio del municipio di Pordenone, si sono riuniti insieme ai sindaci dei 50 comuni della destra a tagliamento che hanno sottoscritto il protocollo sulla parità di genere, le forze dell'ordine, i rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, oltre alle associazioni che si battono quotidianamente per aiutare le donne vittime di violenza e gli studenti delle scuole superiori. Dalla prossima settimana sono in arrivo le tredicesime anche per i dipendenti e i pensionati del Friuli Venezia Giulia, secondo i dati elaborati dall'ufficio studio della CGA di Mestre in regione a beneficiarne sono 780 mila persone per un importo complessivo di quasi un miliardo di euro, pochi comunque saranno i soldi che verranno spesi per i regali di Natale. In Friuli Venezia Giulia pronti i progetti attivi a scuola 2023-2026 e a scuola in sicurezza l'assessore regionale Rosolaine commenta le due iniziative e vede un ampio coinvolgimento della comunità regionale. Progetto sulla sicurezza segue l'approvazione della carta di Lorenzo in conferenza delle regioni. Il telegiornale del nord-est e buonasera, ben ritrovati gentili telespettatori, tante anche oggi le notizie che approfondiremo in questa nuova edizione del telegiornale. Apriamo subito con la cronaca, chiuse le indagini sul gruppo criminale che da mesi terrorizza i migranti nella zona di Piazza della Libertà a Trieste. La polizia ha tratto in arresto, 5 persone, sentiamo. Nella giornata di giovedì 23 novembre la polizia di Stato ha dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare in carcere messa dal GIP del locale tribunale a carico di 5 cittadini extracomunitaria di etnia afghana e pakistana. In particolare all'esito di investigazioni durate oltre 5 mesi, gli investigatori della squadra mobile della questura di Trieste sono riusciti a far luce su di un gruppo criminale composto da cittadini pakistani afghani i quali da luglio del 2023 ad oggi si sono resi protagonisti di plurimi episodi di rapina, furto, estorsione, lesioni e minacce commessi per lo più ai danni di altri cittadini extracomunitari appena giunti sul territorio nazionale. Ad uno degli appartenenti al gruppo sono anche contestati i reati di resistenza pubblico ufficiale e di interruzione di pubblico servizio per aver aggredito alcuni operatori sanitari all'interno del locale pronto soccorso, impedendo quindi il regolare svolgimento delle attività mediche. Il gruppo è inoltre ritenuto responsabile di avere storto, ponendo in essere gravi minacce e somme di denaro ad alcuni dipendenti di un esercizio commerciale di ristorazione situato in zona stazione centrale, nonché di aver minacciato il titolare del medesimo esercizio affinché consegnasse loro con cadenza mensile la somma di 2.000 euro. Il denaro richiesto sarebbe servito a dire dagli indagati ad assicurarsi una sorta di protezione che gli garantisse regolarità nell'esercizio dell'attività commerciale. Il gruppo, infatti, al fine di gettare alle basi la richiesta estorsiva da qualche tempo, aveva iniziato a creare disordini all'interno e all'esterno del locale, minacciando e picchiando tanto gli avventori quanto gli stessi dipendenti. L'attività di indagine coordinata dalla locale procura della Repubblica ha consentito di ricostruire con estrema puntualità l'esatta dinamica dei singoli episodi e il modus operandi del gruppo che, per quanto è marzo, mirava ad ottenere il controllo delle attività tanto lecite quanto illecite nell'area della stazione centrale, esercitando continue pressioni e minacce alle vittime. Tale controllo spesso veniva raggiunto attraverso la Commissione di azioni delituose, in alcuni casi portate a compimento anche con l'uso di armi al fine di trarre un immediato profitto economico, assoggettando le vittime che spesso erano loro connazionali, così ottenendo un monopolio sulla gestione della zona. I destinatari delle misure custodiali rintracciate nella prima mattinata odierna, in collaborazione anche con la squadra mobile di Teramo, dove uno degli arrestati si era trasferito da qualche giorno, sono stati trasferiti presso le competenti case circondariali a disposizione dell'autorità giudiziaria mandante. Oggi, come tutti sappiamo, ricorro la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, per celebrarla a pochi giorni, tra l'altro dall'omicidio di Giulia Cecchettine. Questa mattina sotto la loggia del municipio di Pordenone si sono uniti insieme i sindaci dei 50 comuni della destra a tagliamento, le forze dell'ordine, i rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, oltre alle associazioni che si battono quotidianamente per aiutare le donne vittime di violenza e gli studenti delle scuole. Sentiamo il servizio. I sindaci con la fascia tricolore, i rappresentanti delle forze dell'ordine e delle istituzioni nella maniera più estesa possibile, le associazioni e gli studenti delle scuole superiori, tutti insieme per dare un segno compatto e inequivocabile dall'altissimo valore simbolico. Così il territorio del Friuli occidentale ha voluto celebrare, questa mattina sotto la loggia del municipio di Pordenone, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a pochi giorni dall'omicidio della 22enne Giulia Cecchettine, barbaramente assassinata dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, l'ennesimo femminicidio che ha scosso le coscienze di tutto il paese. Uniti contro la violenza sulle donne è lo slogan scelto per questo evento, organizzato dai 50 comuni della destra tagliamento che hanno sottoscritto il protocollo sulla parità di genere, con prefettura, questura, forze dell'ordine, il centro antiviolenza voce donna, istrice in prima persona e molte altre associazioni e denti. Dopo la cerimonia ufficiale, a conclusione della mattinata, è andato in scena invece il flash mob degli studenti del liceo Leopardi Majorana. Testare la nostra presenza, un fronte comune, concreto e unito, condiviso su un principio, quello che le donne sono libere, hanno il diritto di essere libere e di autodeterminarsi. Questa giornata odierna assume un valore ancora più forte, proprio perché fortissimo è il dolore per quanto è accaduto a Giulia e alle altre 106 donne che hanno pagato la fiducia verso l'amore per un uomo che non le meritava. Ovviamente il comune di Pordenone è il comune capofila di quelli che sono oggi qui presenti, 50 aderenti al protocollo per la parità di genere, protocollo sempre molto importante da sottolineare, Pordenone in prima fila. Sì, come dicevo, un fronte comune delle istituzioni, dei sindaci, del protocollo del Friuli Occidentale, le forze dell'ordine, le associazioni, le istituzioni, proprio per condividere un principio forte e soprattutto per dare voce alle tante donne che voce non hanno. Ci sono tante scuole, vediamo qua davanti, sia parte tanti ragazzi, tanti giovani, ma c'è tutta quella parte di comunità sana che è la stragrande maggioranza, se non la totalità della maggioranza dei cittadini del Friuli Venezia Giulia che sono oggi qui presenti idealmente per dare un segnale importante al territorio, alla politica, alle istituzioni, a tutti, in modo che ci sia una cultura del rispetto verso il prossimo per fare in modo che episodi come quelli che sono accaduti non accadano mai più. L'uccisione di Giulia è stata veramente una notizia terribile che ha scombustolato le coscienze dell'intero Paese. C'è bisogno di riflettere, c'è bisogno di cambiare, soprattutto dal punto di vista educativo e culturale. Dobbiamo essere uniti per stravolgere i modelli educativi che fino adesso non hanno purtroppo funzionato. E credo che sia importante oggi testimoniare l'alleanza di tutte le istituzioni del mondo della scuola, della società civile per voltare pagina, per creare una maggiore sensibilizzazione e per dire no alla violenza, no alla prevaricazione, no alla sopraffazione. Purtroppo oggi è una società consumistica, di mercificazione, che perde i valori, i veri valori, e i valori del rispetto. È una sconfitta di tutto lo Stato, è una sconfitta e la morte della nostra Costituzione. E quindi credo che sia importante che tutte le agenzie educative siano impegnate per cambiare passo. Nella giornata di ieri, intorno alle 14.10, i vigili del fuoco sono intervenuti con più squadre del comando, supportate anche dalle squadre di Gorizia, per l'incendio del tetto di uno stabile in ristrutturazione a Palmanova. L'arrivo sul posto, i vigili hanno notato le fiamme che stavano lambendo anche agli stabili adiacenti, ma il pronto intervento dei pompieri è riuscito a evitare la propagazione delle fiamme. Mentre i colleghi hanno operato per lo spegnimento dell'incendio, una squadra ha fatto un sopralluogo nello stabile interessato dall'incendio e in quegli adiacenti per verificare che non vi fossero persone o animali intrappolati negli ambienti invasi dal fumo. Al momento dell'incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, si è tenuto sotto controllo e si è bonificata e messa in sicurezza l'area. Sul posto, per quanto di competenza, sono intervenute anche le forze dell'ordine e il personale sanitario. Un evento alluvionale dovuto alla rottura degli argini del fiume Noncello a Pordenone e questo lo scenario ipotizzato per l'esercitazione di colonna mobile regionale che si è svolta nel Pordenonese dal 21 al 24 di novembre. Un evento alluvionale dovuto alla rottura degli argini del fiume Noncello a Pordenone e questo lo scenario ipotizzato per l'esercitazione di colonna mobile regionale che si è svolta nel pordenonese dal 21 al 24 novembre. All'esercitazione che aveva lo scopo di testare e migliorare le procedure di attivazione dei soccorsi in caso di calamità hanno partecipato i vigili del fuoco dei comandi di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, nonché del personale della direzione regionale Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia. Oltre a testare l'attivazione della macchina dei soccorsi durante l'esercitazione sono state provate varie manovre di soccorso in ambiente fluviale alluvionale, le quali hanno impegnato i sommozzatori del nucleo di soccorso subacqueo acquatico dei vigili del fuoco di Trieste, nonché personale soccorritore acquatico di superficie, soccorritore alluvionale fluviale, conduttori di mezzi anfibi e mezzi nautici dei comandi della regione. E' stato anche montato il campo base di nuova assegnazione per l'accoglienza logistica dei soccorritori. I funzionari tecnici insieme al personale TAS e topografia applicata al soccorso hanno eseguito alcuni sopralluoghi utilizzando l'apposita applicazione per smartphone e tablet per garantire una prima mappatura del danno nei territori colpiti dalla calamità alluvionale. Nel corso dei quattro giorni di esercitazione sono state coinvolte ben 225 unità dei vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia. Il comando dell'intera operazione era affidato al direttore regionale dei vigili del fuoco, ingegnere Agatino Carrolo, il quale si ha avvalso della preziosa collaborazione del proprio staff che in caso di emergenza di questo tipo è composto dai comandanti dei vigili del fuoco di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine. Torniamo in studio, abbiamo il piacere di avere con noi Caterina Conte, segretaria regionale del Partito Democratico in Friuli Venezia Giulia, grazie per essere con noi. Grazie. Grazie dell'invito, buonasera a tutti. Facciamo il punto, insomma, oggi giornata importante, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, per l'eliminazione della violenza contro le donne. Insomma, oggi pomeriggio ha preso parte un importante incontro, è giusto sensibilizzare soprattutto i giovani su questo tema partendo anche dalle famiglie alle volte. Sì, un tema fondamentale, sappiamo che questa giornata è stata istituita relativamente in modo recente, però serve disseminare una cultura della parità e soprattutto aiutare le nuove generazioni a coltivare questo impegno a sradicare la violenza contro le donne e in generale contro tutti i soggetti più fragili. Abbiamo parlato delle azioni politiche che si possono intraprendere per sconfiggere questo male della nostra società, in particolare le azioni che la politica regionale può implementare, penso in particolare ai centri antiviolenza, penso al lavoro che si può fare nelle scuole per aiutare i ragazzi, le famiglie anche a far emergere il tanto sommerso che c'è. Per questo la giornata di oggi è una giornata importante, ma ricordiamoci che il lavoro va fatto tutto l'anno perché c'è molto sommerso, ci sono molte situazioni anche delicate che richiedono una grande attenzione e sensibilità per poter emergere e soprattutto non lasciare sole le donne che vivono situazioni familiari delicate, complesse e anche i minori che spesso sono oggetto di violenza assistita, cioè assistono ad episodi e tante volte il primo passo è quello di riuscire a individuare che quei fatti sono violenza, perché come abbiamo visto nei fatti di cronaca nelle ultime settimane e anche nel corso degli anni, vediamo che spesso è difficile riuscire a interpretare ciò che si vive come un elemento di violenza, per questo va fatto un lavoro culturale profondo nella società anche di emancipazione delle donne e della loro possibilità anche economica di mantenersi, perché ricordiamoci che c'è una violenza fisica che è più facile da individuare, c'è una violenza anche economica che passa dalla impossibilità per le donne di mantenersi, di poter disporre del proprio denaro e su questo va ricordato che oltre il 40 per cento delle donne in Italia non ha un conto corrente intestato a sé e poi c'è una violenza molto subdola che è quella psicologica, che è difficile da individuare perché è fatta di relazioni, di piccole avvisaglie che tante volte passano in secondo piano o possono essere anche considerate meno importanti, quindi è importante invece confidarsi, tutti i circoli del Partito Democratico e anche i nostri amministratori, lo voglio dire, sono a disposizione per ascoltare con delicatezza le situazioni di fragilità, di difficoltà che ci sono, perché ricordiamoci che il lavoro di ascolto è fondamentale proprio per prevenire e anche per andare a evidenziare delle situazioni che poi possono sfociare purtroppo, come abbiamo visto, in episodi davvero gravissimi. Ecco, vorranno invece al futuro del Partito Democratico, ci sono tanti appuntamenti nel 2024 tra le europee ma anche diversi comuni del Friuli Venezia Giulia andranno al voto, come vi state muovendo e su quali temi batterete di più? Sì, sicuramente abbiamo davanti delle sfide importanti, guardiamo alle elezioni europee che saranno un vero spartiacque del nostro futuro perché si deciderà se si va verso un'Europa alla Orban che vuole chiudere, che è un'Europa che tiene lontani i diritti, le possibilità, oppure se andiamo verso un'Europa invece più progressista, che mantenga delle regole fisse ma che al contempo dia una speranza di futuro ai nostri giovani. Siamo nella regione più europea d'Italia e quindi è chiaro che guardiamo con grande attenzione ai nostri vicini, alla Slovenia, all'Austria. Pensiamo anche a un progresso dell'Unione Europea, quindi con un'Europa a due velocità che consenta agli Stati che vogliono mettere in comune alcuni elementi diciamo dello Stato con positività, ma guardiamo anche a un'Europa in cui Schengen non sia un sogno, quindi noi viviamo oggi una situazione in cui ai confini sono tornati in controlli, ma questa non è una situazione che può continuare per lungo tempo perché sappiamo che c'è una grande differenza tra il tema della sicurezza e il tema dell'immigrazione che hanno bisogno di risposte diverse. Sicuramente poi c'è la grande questione delle amministrative del prossimo anno che riguarderanno anche il territorio pordenonese. Siamo impegnati da subito per incontrare i circoli, gli amministratori, i nostri sindaci anche su questo territorio. A livello regionale faremo già un incontro martedì con tutti i segretari dei circoli del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia. Successivamente incontreremo gli amministratori, i nostri sindaci e poi continuiamo con forza a declinare i nostri temi, i temi che sono di interesse per i cittadini, penso alla questione della sanità pubblica, penso alla questione della scuola pubblica e infine il grande tema ambientale che insomma è ormai un tema su cui c'è una grande sensibilità anche da parte delle nuove generazioni e per cui cerchiamo di essere attenti soprattutto alla prevenzione perché quando un territorio è fragile, quando non viene fatta prevenzione poi vediamo quali sono i risultati sul lungo periodo. E poi c'è un grande tema demografico e salariale anche nel Friuli Venezia Giulia perché le paghe, le pensioni non sono sufficienti in questo momento per tanti per arrivare a fine mese e su questo credo che vada fatta una battaglia con la giunta regionale e con il livello nazionale perché le paghe siano adeguate all'inflazione e così come anche per quanto riguarda le pensioni perché c'è tanta solitudine e difficoltà. Ecco, un altro fenomeno che purtroppo colpisce l'Europa ma anche il Friuli Venezia Giulia di conseguenza è il fatto che molti giovani lasciano il Friuli per cercare fortuna altrove, siccome è un fenomeno ovviamente difficile da arginare si potrebbe puntare invece sull'immigrazione non vedendola come una piaga, bensì magari istituendo e ponendo le basi per una politica dell'inclusione magari anche con proprio centri preposti su questo fronte. Sì, sicuramente c'è un grande fenomeno che sta investendo tutto il Friuli Venezia Giulia io ricordo che purtroppo noi in Friuli Venezia Giulia abbiamo la più alta quota di giovani che lasciano il territorio regionale per cercare offerte di lavoro e anche prospettive di crescita lavorative altrove. Questi giovani, questi cervelli, questi giovani che sono stati formati nella scuola e nelle università è importante che vengano richiamati sul nostro territorio anche per non impoverirlo, anche socialmente, economicamente e penso che su questo la Regione e lo Stato abbiano la possibilità di attivare delle politiche di rientro e soprattutto di dare una prospettiva di crescita per il nostro territorio perché è sotto gli occhi di tutti come le crisi aziendali sono ormai all'ordine del giorno c'è una grande difficoltà anche per i piccoli imprenditori a mantenere aperte appunto la loro possibilità di guadagnarsi il pane lavorando e credo che su questo serva un'attenzione maggiore anche da parte della Giunta. C'è un enorme tema economico che riguarda il Friuli Venezia Giulia perché con la crisi che stiamo vivendo è chiaro che sono soprattutto le aziende e alcuni comparti a essere maggiormente colpiti, non vediamo però neanche in questa finanziaria regionale che sarà discussa una soluzione per queste problematiche che sono sicuramente complesse ma che devono essere affrontate con la serietà e anche con la lungimiranza perché una Regione in cui c'è una mortalità per fortuna non troppo alta perché la vita si allunga ma in cui nascono pochi bambini e soprattutto non viene fatto un investimento sulle giovani generazioni una Regione che purtroppo tenderà ad essere sempre più marginale sullo scenario italiano ed europeo per questo noi vogliamo invece una Regione in cui si investa nelle politiche abitative nelle politiche lavorative per i giovani e soprattutto per aiutare le famiglie per aiutare i giovani a scegliere di fare famiglia, restare nel Pordenonese, in Friuli Venezia Giulia e soprattutto poter qui disporre di una vita che sia dignitosa e che ci consente di stare vicine alle nostre famiglie agli anziani che altrimenti restano qui spesso da soli e senza servizi perché l'altro tema importante appunto è quello della sanità e dei servizi che vengono erogati e sappiamo che la sanità pubblica ormai fa sempre più difficoltà per una precisa scelta politica a erogare servizi e davanti a questo c'è una grande solitudine degli anziani e delle famiglie Ecco chiudendo guardando alla sanità pordenonese sappiamo insomma che la situazione di Asfo non è tra le più rose adesso si è aggiunta anche la recente sospensione, è stata definita del punto nascite di San Vito su questo fronte prenderete insomma una posizione forte Sì sì l'abbiamo già presa, siamo già stati in piazza nelle scorse settimane insieme al segretario provinciale Fausto Tomasello insieme al circolo del Partito Democratico di San Vito la destra, la giunta Fedriga si assume la responsabilità di chiudere questo punto nascita che significa depauperare il territorio di una struttura ospedaliera come sta succedendo purtroppo nel pordenonese ormai quasi ovunque perché siamo di fronte a un impoverimento dell'offerta ospedaliera e in generale delle strutture, della struttura pubblica e si va verso ormai un privato che sopperisce per chi può pagare alle necessità noi pensiamo invece che la priorità sia una sanità pubblica, aperta e sostenibile pensiamo che vadano trovate delle nuove soluzioni perché questo sia appunto si possa reggere e allo stesso tempo però non dobbiamo dimenticare che gran parte della popolazione comincia a smettere di curarsi cioè noi assistiamo oggi a fenomeni in cui purtroppo le persone devono decidere se andare dal dentista oppure iscrivere i ragazzi a scuola e noi pensiamo che questa sia una situazione intollerabile e la giunta di Fedriga si assume la responsabilità di quello che sta facendo e cioè di smobilitare pezzo per pezzo la sanità pubblica stiamo facendo battaglia anche in consiglio regionale con i nostri consiglieri ci sono due consiglieri nel pordenonese che portano avanti queste battaglie Nicola Conficoni e Andrea Carli io penso che su questo noi continueremo a fare battaglia e a incalzare la giunta Fedriga perché sveli qual è il suo progetto per la nostra regione c'è una smobilitazione costante della sanità pubblica che non trova invece un riscontro nelle necessità e nelle urgenze dei cittadini e soprattutto dei cittadini più fragili grazie Caterina Conte per la spettata nostra compagnia grazie segretaria grazie a voi buon lavoro andiamo avanti con il telegiornale della prossima settimana tra i lavoratori dipendenti e i pensionati sono 781.000 i residenti in Friuli Venezia Giulia che dalla prossima settimana e fino alla vigilia di Natale riceveranno la tredicesima mensilità nei portafogli di queste persone finiranno per la precisione 978 milioni di euro a festeggiare sarà anche il fisco che attraverso la ritenuta dell'IRPEF dai contribuenti della regione incasserà 317 milioni di euro pertanto alle imprese e alle società pubbliche e private del Friuli Venezia Giulia e all'Inps questa gratifica natalizia costerà al netto dei contributi previdenziali 1 miliardo e 300 milioni di euro lo afferma l'ufficio studi della CGA di Mestre che sottolinea come la provincia del Friuli Venezia Giulia con il più alto numero di beneficiari della tredicesima è Udine che tra pensionati e dipendenti ne conta quasi 338.500 seguono Pordenone con 200.000 persone Trieste con quasi 154.000 e Gorizia con poco più di 88.000 persone in questo momento è molto difficile prevedere cosa acquisteranno i Friulani e i Giuliani con la tredicesima visto l'andamento dei consumi registrato nella prima parte dell'anno si stima infatti che l'ammontare complessivo della spesa destinata ai regali rimanga pressoché lo stesso del 2022 ovvero attorno ai 250.000 euro un importo che rispetto a 15 anni fa comunque è dimezzato Anche sulle tredicesime il prelievo fiscale è raggiunto livelli insopportabili in attesa che dall'anno prossimo venga detassata una buona parte di questa gratifica che riceveremo nelle prossime settimane verrà spesa per pagare le bollette della luce del gas e la rata del mutuo solo una piccola parte sarà utilizzata per gli acquisti natalizi con buona pace di tanti artigiani altrettanti piccoli commercianti che speravano in una ripresa dei consumi almeno in questa ultima parte dell'anno Anche quest'anno i generi alimentari dovrebbero confermarsi la tipologia di regalo natalizio più acquistato dai consumatori del Friuli Venezia Giulia seguono i giocattoli i prodotti tecnologici i libri l'abbigliamento e gli articoli per la cura della persona non c'è alcun dubbio poi che anche i cosiddetti regali digitali saranno tra i più gettonati potendo essere acquistati senza doversi recare presso i negozi fisici subiranno un ulteriore aumento rispetto ai volumi registrati l'anno scorso in particolare sarà così per gli abbonamenti a piattaforme streaming e buoni regalo per gli acquisti online In Friuli Venezia Giulia pronti i progetti attiva a scuola 2023-2026 e a scuola in sicurezza l'assessore regionale Alessia Rosolen commenta le due iniziative vedono un ampio coinvolgimento delle comunità regionali progetto sulla sicurezza tra l'altro che segue l'approvazione della carta di Lorenzo in conferenza delle regioni Le due iniziative attiva a scuola 2023-2026 e a scuola in sicurezza hanno in comune il coinvolgimento di tutti i soggetti del territorio la ricerca di approcci innovativi e la costruzione di legami tra il mondo della scuola e dell'università e gli enti di formazione e di ricerca i politecnologici i cluster e le associazioni confindustriali per dare vita a un impegno collettivo a favore dei nostri ragazzi e la sintesi dell'assessore regionale all'istruzione università formazione lavoro universitari cerca Alessia Rosolen che ieri ha presentato a Trieste due progetti dedicati rispettivamente all'orientamento educativo e alla sensibilizzazione e promozione delle scuole in materia di salute e di sicurezza Rosolen ha evidenziato che il progetto sulla sicurezza in particolare si pone in scia al recapimento al recepimento da parte della conferenza delle regioni delle province autonome della carta di Lorenzo il documento programmatico predisposto dalla regione Friuli-Venezia-Giulia nel nome di Lorenzo Parelli lo studente friulano morto nel gennaio del 2022 nell'ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro attiva scuola che ha a disposizione 3 milioni di euro dell'FSE nel triennio 23-26 sarà messo in opera da un'associazione temporanea di scopo con Civi form quale capofila che raccoglie 13 enti di formazione ed è affiancata da un corposo partenariato aperto composto da soggetti pubblici e privati a ora già a 68 e hanno in comune l'attenzione che abbiamo nei confronti del sistema scolastico è la ricerca di innovatività nella costruzione di legami tra il sistema scolastico e il territorio la costruzione di reti la definizione di comunità educante ampliata anche a tutti i soggetti che abbiamo sul territorio la conoscenza delle enormi potenzialità che abbiamo sul territorio che entra all'interno delle scuole la cosa in comune è il fatto che in entrambi i progetti sono presenti tutti i soggetti che agiscono a livello territoriale anche in maniera trasversale dai cluster alle confindustria dagli enti di formazione agli enti di ricerca e politecnologici dalle associazioni al sistema della formazione dell'università è un impegno che è come piace dire a me che è collettivo diamo il benvenuto in studio a Tiziano Centis presidente della civica Friuli Venezia Giulia grazie per essere in nostra compagnia grazie a voi grazie facciamo il punto insomma è d'obbligo tornare a parlare della chiusura del punto nascite di San Vito al tagliamento dalla regione insomma sembra non esserci almeno per il momento la volontà di fare un passo indietro dal vostro punto di vista cosa ne pensate? ma siamo arrabbiati perché? perché durante la scorsa legislatura l'assessore regionale alla salute e lo stesso presidente della giunta regionale hanno più volte sostenuto che il punto nascita di San Vito non si tocca non si tocca mi ricordo quando abbiamo portato al presidente del consiglio regionale in quel tempo era Piero Mauro Zanin le oltre 2000 firme che abbiamo raccolto a San Vito per sostenere e difendere il punto nascita di San Vito ci hanno dato del terrorismo politico per un pugno di voti un terrorismo elettorale politico per un pugno di voti ecco il risultato è questo che dopo durante la scorsa legislatura questi amministratori regionali questo presidente della giunta regionale più volte sostenuto non tocchiamo e difendiamo il punto nascita di San Vito a pochi mesi dal voto ecco il risultato ed ecco la risposta guardi io non critico mai il voto dei cittadini anzi va rispettato il voto dei cittadini ma in questo caso i cittadini che hanno votato quella parte politica quella maggioranza quei nostri rappresentanti nel territorio che rappresentano quella maggioranza sono stati traditi questo bisogna dire sono stati traditi perché questa è stata veramente una gran presa in giro da parte di chi ha amministrato nei cinque anni precedenti e ha sempre sostenuto difeso e ha attaccato fortemente in aula chi sosteneva il pericolo del punto nascita di San Vito se non andava rinforzato se non arrivava il personale necessario per mantenere in sicurezza i parti dei bambini le mamme questi qua questo voto è stato tradito da parte dei cittadini che ha votato questa maggioranza quindi adesso ci troviamo in una situazione dove che il punto nascita è sospeso diciamo che è una parola per nascondere la chiusura ebbene fa il sindaco di San Vito a impugnare l'atto perché questa è un'interruzione di pubblico servizio va impugnato l'atto bene il sindaco di San Vito che impugnerà con tutte le procedure giuste e corrette impugnerà l'atto bene il sindaco di San Vito per quanto riguarda l'apertura di una nuova raccolta firme perché i cittadini vanno ascoltati leggevo in questi giorni sulla stampa che l'assessore a salute dichiarava non dobbiamo ascoltare le piazze ma dobbiamo fare scelte per il bene della sanità pubblica per il bene della sanità regionale beh fino ad adesso cosa ha fatto? non ho capito sono sei anni che governa questa giunta regionale sono sei anni che governa questa maggioranza e fino ad adesso cosa abbiamo fatto? tra l'altro è chiaro ed è ovvio che l'assessore della salute non ascolta le piazze perché? perché lui è assessore grazie alla nomina non è passato attraverso il voto dei cittadini non è andato in lista a misurarsi con i suoi cittadini cosa ha fatto e cosa non ha fatto e se ha fatto bene viene premiato se ha fatto male va a casa no lui viene messo lì dal presidente quindi gode la fiducia e io per carità rispetto ma non può dichiarare adesso e ha sempre dichiarato non ascoltiamo le piazze ma facciamo il nostro mestiere ma fino ad adesso cosa abbiamo fatto? e fino ad adesso abbiamo sempre difeso il punto nazi di San Vito e adesso lo chiudiamo e questa è la risposta e questo è il tradimento che viene dato ai cittadini di San Vito ma non solo di San Vito di un territorio ampio ricordo 50.000 abitanti tutto il San Vitesse una decina di comuni il Veneto orientale il Friuli occidentale questo è il risultato di questa giunta di questa maggioranza di questa parte politica che ha tradito il voto dei cittadini che ha votato questa parte e ha tradito un territorio che fino a ieri difendeva con il suo punto di rascita allora è giusto che ci sia ma poi guardi stiamo a poco a fare anche un ragionamento a Pordenone punto nascita ospedale civile ci sono 15-16 operatori sanitari a San Vito punto nascita ci sono 3-4 operatori sanitari allora lei se fosse dirigente titolare responsabile di un'azienda se un'azienda ha difficoltà di personale ed è in emergenza e un altro reparto ha abbondanza di personale cosa fa? sposta il personale da un reparto e lo impiega e lo mette e lo colloca in quel reparto che ha difficoltà che è in emergenza e perché non lo si fa in questo caso la stessa azienda con due punti nascita personale abbondante a Pordenone crisi di personale a San Vito perché non si fa un'equip unica e si bilancia la necessità del personale a San Vito rispetto a Pordenone e si mantiene il punto nascita a San Vito perché non si fa? perché è tutto stato programmato perché c'è stato un percorso un passettino alla volta fino ad arrivare al momento della crisi dovuto al fatto che non è in sicurezza del reparto per dire ah sapete che c'è si chiude punto e tutti a casa questo è il risultato finale quindi siamo di fronte a una chiusura premeditata sotto traccia senza fare rumore senza fare caos ma premeditata per arrivare alla chiusura al punto nascita di San Vito questo dispiace perché viene meno un servizio eccellente ha ricevuto negli anni riconoscimenti regionali nazionali e sono stati fatti importanti investimenti abbiamo il parto in acqua abbiamo strutture all'avanguardia abbiamo personale che in gli anni ha messo amore professionalità capacità e responsabilità tutto questo viene buttato nel nome del nuovo grande bello ospedale dove tutto viene fatto speriamo bene e di conseguenza chi viene penalizzato è il territorio e i cittadini del territorio sapendo comunque tutte le varie difficoltà che sta vivendo la sanità a Pordenonese quindi avere due punti di appoggio non poteva essere anche strategico ma dire di sì anche perché due nuovi operatori sanitari hanno vinto un bando di concorso e a marzo avrebbero perso servizio viene diciamo quasi dichiarato che il punto nascita privato a San Giorgio nel 2025 non verrà rinnovata la convenzione allora scusate manteniamo il punto nascita pubblico di San Vito punto nascita pubblico della stessa azienda la stessa azienda deve salvare la sua azienda il suo reparto il suo personale manteniamo il punto nascita a San Vito aspettiamo i due nuovi operatori sanitari che perdono funzione a marzo rispettiamo il percorso di allontanamento di spegnimento di chiusura di quella convenzione del punto nascita di San Giorgio che ripeto fra il Policlinico San Giorgio e l'ospedale civile abbiamo un chilometro di distanza io credo che nessuna cittadina cittadella con 50.000 abitanti in tutto il paese ci siano due punti nascita a un chilometro di distanza penso che sia un caso unico che raro solo a Pordenone solo a Pordenone allora manteniamo San Vito manteniamo l'ospedale civile portiamo a casa i due nuovi medici che hanno vinto il concorso per il punto nascita a San Vito chiudiamo la convenzione di San Giorgio io per carità modestamente sommessamente lo dico questo potrebbe essere un percorso di avvicinamento dopo eventualmente se ci sono le condizioni che abbiamo perché ci sono sempre parti in meno sempre meno bambini nascono prenderemo in considerazione anche la destinazione e il futuro di San Vito ma intanto lo salviamo lo sosteniamo lo rinforziamo quel personale che era presente a Pordenone e che è presente a Pordenone torneremo sul tema grazie Tiziano Centris per essere stato con noi questa sera grazie grazie a voi piccola pausa pubblicitaria restate con noi tornerà tra pochissimo l'informazione di Telepordenone grazie di nuovo in studio per la seconda parte del telegiornale del nord-est diamo il benvenuto a Danilo Signore consigliere comunale ad Aviano grazie per essere con noi grazie buonasera e grazie a lei facciamo il punto insomma oggi è la giornata ricorre la giornata dell'internazionale contro la violenza sulle donne un pensiero non può che andare chiaramente a Giulia e Cechentin l'ultimo purtroppo di una lunga serie di femminicidi insomma legato al caso di Giulia è entrato si è accesa anche una sorta di polemica sul fatto della sorveglianza degli impianti di video sorveglianza del fatto che i carabinieri non sono intervenuti insomma c'è tutta una serie di dinamiche sul caso anche ad Aviano insomma si è riscontrato che non funzionano le videocamere di sorveglianza beh intanto dobbiamo dire che oggi è una giornata che va interamente come dire indirizzata verso questo fenomeno purtroppo che ormai da parecchi anni abbiamo anche se non è un fenomeno solo italiano purtroppo e questo bisogna sottolineare ma dobbiamo anche tenere presente che bisogna fare di tutto affinché queste cose cambino ci sia un atteggiamento diverso da parte di tutti noi su questo è evidente però io direi non bastano solo le fiaccolate le marze le scarpe rosse le panchine eccetera va cambiata completamente la mentalità però è ovvio che dobbiamo anche tener conto insomma che va fatta tutti assieme uomini donne istituzioni famiglia perché la cosa principalmente credo che parti comunque all'interno di ogni famiglia questo questo deve essere deve essere chiaro poi purtroppo oggi oltre che la giornata contro la violenza delle donne abbiamo anche in parecchi comuni tra i quali anche Aviano queste fiaccolate la fiaccolata dedicata a Giulia una delle ultime purtroppo vittime di questa situazione anche se dobbiamo ricordare che se ne sono state altre vittime in questi ultimi mesi che sono state anche diciamo delitti altrettanto ignobili ma anche forti quindi al di là di queste cose poi arriviamo a quello che sono le piccole polemiche diciamo io dico le piccole polemiche perché purtroppo non possono riportare indietro l'orologio e non possono salvare nessuno però è ovvio che sono delle riflessioni da fare lei poco fa appunto diceva il discorso delle telecamere noi abbiamo avuto due comuni Aviano e Barchis che purtroppo le telecamere presenti lungo la strada non funzionavano adesso che sia stato un problema di manutenzione un problema di un giorno di una settimana di un mese io non so però e chiederemo spiegazioni credo doverose alle amministrazioni di competenza però non si può arrivare al punto che mettiamo tecnologie investiamo soldi e poi non c'è la manutenzione non c'è attenzione perché guardi non mancano i soldi per la manutenzione questo è il dramma vero di queste cose manca l'attenzione manca seguire le cose quindi non possiamo arrivare ad avere le videocamere lungo una strada e poi ci accorgiamo che non funzionano purtroppo in una situazione anche diciamo veramente grave bisogna dire che anche se le camere fossero state accese probabilmente anzi certamente non sarebbe cambiato nulla se non il fatto di ritrovare forse di prendere prima questo delinquente e di ritrovare il corpo della povera Giulia prima però insomma bisogna tutti fare attenzione su queste cose la sicurezza nelle nostre città nei nostri comuni è fondamentale non possiamo investire su tecnologie su tante cose e poi dimenticarci di fare la manutenzione perché veramente siamo all'assurdo ma questo senza polemiche in un giorno che sicuramente non vanno fatte polemiche però una riflessione appunto va fatta c'è da dire una cosa e aggiungo questo le amministrazioni tutte debbono fare maggiore attenzione a questo che è appunto il discorso delle pari opportunità della giornata contro i femminicidi eccetera Aviano è ancora in attesa dopo un anno e mezzo di amministrazione che venga nominata una commissione pari opportunità che non è ancora stata nominata allora a chiacchiare siamo tutti bravi nei fatti poi c'è già da domani qualche io dico qualcuno che oggi farà la fiaccolata già da domani dimentica oggi dimentica ieri e dimentica il passato torneremo sicuramente a parlare sui temi grazie Danilo Signore per essere stato con noi grazie a lei buonasera a tutti Andiamo avanti con il telegiornale nonostante le richieste di risposte in merito al futuro della sanità regionale la direzione centrale salute avanzata dalla Will FPL e Nursida anche in vista insomma degli scioperi dei giorni scorsi nulla ancora è stato chiarito ne ha parlato il segretario regionale della Will FPL Stefano Bressam sentiamo Come Will FPL e Nursida restiamo esterefatti da totale mancanza di risposte da parte della direzione centrale salute che dovrebbe dare linee guida sulla sanità regionale con risposte ben precise la nostra sanità che sta vivendo un momento molto difficile le poche risposte che vengono fornite come ad esempio per l'indemnità di pronto soccorso sono deliranti e contrapposte anche a quanto dalla stessa direzione centrale salute deliberato questo crea solo confusione e non va in alcun modo a valorizzare chi per tutti questi anni si è sacrificato nelle corsie e in periodo di covid è stato chiamato eroe o angelo una direzione centrale salute così alla deriva lascia nell'oblio anche tutti i direttori generali della nostra regione come Will FPL e Nursin siamo più che convinti che i cittadini della nostra regione meritino molto di più l'amministrazione comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica a Jesolo per l'installazione di 226 nuovi impianti di illuminazione lungo 4 strade della città i nuovi punti luce saranno collocati lungo via Cagamba via Le Oriente e via Trinchette ma anche in via Fornera nei primi tre casi nuovi impianti di illuminazione avranno una doppia funzione da un lato completeranno i progetti delle piste ciclabili per le quali non era stata inizialmente prevista l'installazione dei punti luce dall'altro sostituiranno i vecchi impianti con una nuova tecnologia a led particolarmente performante dal punto di vista energetico grazie a via libera della giunta infine sarà estesa la rete di illuminazione pubblica portando i corpi illuminanti anche in via Fornera dove non sono attualmente presenti l'intervento comporterà una spesa complessiva per l'ente pari a 1,4 milioni di euro trasporti e infrastrutture Gorizia sarà più accessibile in vista della capitale europea della cultura ne ha parlato ieri il sindaco Rodolfo Ziberna assieme all'assessore regionale e all'infrastrutture Cristina Mirante in vista di Go 2025 la città di Gorizia sarà più accessibile dal punto di vista dei trasporti e delle infrastrutture stiamo lavorando per la capitale europea della cultura del 2025 ma stiamo anche disegnando la Gorizia del 2035 e 2045 con l'assessore regionale Cristina Mirante che ringrazio di cuore rileva il sindaco Rodolfo Ziberna ci siamo confrontati su collegamenti trasporti e accessibilità per rendere la nostra meravigliosa città più facilmente raggiungibile la realizzazione delle infrastrutture sta rispettando i tempi che ci eravamo posti perciò riusciremo in tempo utile a cambiare le prospettive della città per accogliere sempre più e sempre meglio chi vorrà venire a scoprirne le bellezze un incontro molto positivo con il comune di Gorizia oggi parlando ovviamente del grande evento della capitale della cultura GO 2025 e di tutte le opere infrastrutturali che sono in capo al comune in capo alle DR e in parte anche seguite dalla regione soprattutto per quanto riguarda l'accessibilità e i trasporti questo tema è stato toccato proprio perché stiamo preparando dei pacchetti delle misure straordinarie per implementare i servizi esistenti treni e autobus sia nell'ex urbano che nell'urbano ma soprattutto per collegare i principali hub di arrivo di quello che dovrebbe essere il flusso turistico quindi sia stazione e aeroporto a Venezia sia stazione e aeroporto Trieste Airport in Friuli Venezia Giulia Ora diamo il benvenuto in studio a Nazario Mazzotti della SPCGL grazie per essere in nostra compagnia grazie grazie a voi per l'ospedità per l'ospedità 2 bravissimi flash sulla situazione di Gaza finalmente si è arrivati a un cessato il fuoco minimo di 4 giorni ma io dico nessun irresponsabile dovrebbe far saltare per farlo invece continuare poi oggi 25 novembre non possiamo non ricordare che la giornata internazionale contro la violenza sulle donne sono 107 le vittime di femminili dall'inizio di quest'anno ciò detto riparliamo un'altra volta delle ragioni degli sciopoli generali prima quello di venerdì 17 mentre ieri si è svolto quello di 8 ore proclamato dalla confederazione CGL e UIL per tutte le aziende private del nord Italia con manifestazioni in tutte le città anche qui davanti alla prefettura di Pordenone al sostegno della necessità e dell'urgenza di cambiare la legge di bilancio e di un'altra politica economica sociale e contrattuale in sintesi riportiamo le criticità che la legge di bilancio del 2024 non affronta prima di tutto è una legge di bilancio da 24 miliardi con 8 miliardi di nuove tasse e 16 di nuovi debiti traballante perché la crescita del 2024 sarà molto più basso di quell'1,2 sul quale il governo ha tarato tutti i conti dello Stato che ovviamente vedremo presto che non torneranno purtroppo senza sviluppo non c'è futuro siamo un paese oppresso da un debito gigantesco sul quale dobbiamo pagare interessi dell'ordine dei 100 miliardi di euro all'anno stabilmente un paese stabilmente infestato da un'evasione fiscale di circa 100 miliardi di euro all'anno e altrettanti di evasione contributive cifre che sono mostruose siamo unici in Europa ad avere dati così spaventosi l'unità parlamentare di bilancio lo stesso ministero dell'economia e delle finanze solo pochi mesi fa hanno comunicato che liberi professionalisti e autonomi manifestano una propensione all'evasione pari al 70% dei propri redditi ai quali incredibile si riserva la flat tax la tassa piatta al 15% tutto incluso mentre il 90% dell'Irp e delle addizionali sono pagate da dipendenti e pensionati mentre il governo Meloni in un solo anno ha varato ben 17 condoni e sanatorie l'Italia è un paese fermo che non investe mentre il governo Meloni dopo lampi e tuoni rinuncia a chiedere una minima parte degli extra profitti realizzati da tutte le aziende di ogni settore fra il 2022 e il 2023 le banche in otto hanno realizzato 41 miliardi in più il settore dell'energia 65 miliardi in più armamenti eccetera eccetera alimentari potremmo aggiungere tante altre cose quindi c'è stata una rinuncia in buona sostanza da parte del governo chiedere a questi soggetti un contributo sarebbero stati utili per investirli verso il futuro dei giovani un paese fermo che spinge ad emigrare più o meno 125 giovani 125 mila giovani ogni anno di cui 60 mila sono lavorati che non ritorneranno più infestato da precarietà e da bassi salari dove la destra dice no al salario minimo mentre i profitti galoppano un paese che respinge gli immigrati di cui avremmo tanto bisogno in ogni settore anziché formarli ed integrarli un paese dove è in pericolo la scuola pubblica che degrada e arretra pesantemente a causa dei pochi finanziamenti e dei tagli e del privilegio rivolto anche qui alle scuole private l'Italia e del frio di giuglia dove la destra governano smantella i caposaldi della sanità pubblica per fare largo alla privata che si preoccupa di massimizzare i propri profitti piuttosto che di assicurare la presa in carico e la cura della salute dei cittadini come dimostrano alcuni esempi di 4 milioni di persone che rinunciano alle cure necessarie per l'impossibilità di accedervi a causa delle liste d'attese infinite e dell'indisponibilità di risorse proprie per pagarsene in privato poi il dato della mancanza dei medici di medicina generale è ormai eclatante per stare solo qui in frio di giuglia ci sono 200 mila cittadini che non hanno più quindi uno su sei che non hanno più un medico un medico di medicina generale proprio oppure che per raggiungerlo devono spostarsi di molti chilometri e la cosa si fa più difficile per la popolazione anziana c'è una situazione di sottofinanziamento della sanità pubblica che perdure da anni e che si è aggrava con la legge di bilancio del 2024 ha un bel dire la Meloni ma ha emesso così tanti soldi e questa è una balla assoluta perché con 3 miliardi in più aggiunti quest'anno rispetto all'anno scorso non si copre neanche l'aumento dei costi generato dal caro prezzo per cui la sanità pubblica e i cittadini italiani nel 2024 staranno peggio di quest'anno ecco una buona ragione per sostenere che va cambiata la legge di bilancio per salvare la sanità pubblica mentre qui in Friuli Università Giulia continua la nefasta opera della coppia Federica Riccardi che in pochi giorni da ultimo ha deciso la chiusura del punto Nassido di San Vito che non sarebbe sicuro perché lì sono rimasti solo tre medici c'erano e se ne sono andati ci sono le ragioni che bisognerebbe indagare mentre a Pordenone sempre nel Santa Maria degli Angi in quella maternità ce ne sono sedici allora Federica e Riccardi su questa cosa della chiusura immediata del punto Nassido di San Vito devono fare marci dietro perché la soluzione sicura c'è bisogna accorpare i punti Nassido pubblici di San Vito e Pordenone e Santa Maria degli Angi redistribuendo i medici tra le due sedi così rafforzando la parte pubblica piuttosto che chiudere San Vito e assegnare uno stock delle nuove Nassite al Policlinico San Giorgio un ulteriore spreco di soldi pubblici Policlinico questo sì che è privo di sicurezza non c'è un pronto soccorso né pediatrico né per adulti e manca tanto altro ma in poche parole non è in grado di affrontare un'emergenza che si dovesse presentare alla mamma o al bambino quindi sono cose sulle quali tutti noi dobbiamo pensare se si può gestire la sanità a questo modo ecco ci ho detto noi non possiamo che ribadire che sia verso lo Stato che verso la Regione non ci fermeremo non ci fermeremo e proseguiremo le nostre battaglie grazie alla prossima Buone notizie per cittadini e commercianti a Pordenone rispondendo ad una loro richiesta il Comune ha messo in atto una nuova misura che da gennaio 2024 andrà ad abbassare ulteriormente la tariffa dei parcheggi di fascia alta in città Diminuzione del costo dei parcheggi di fascia alta come assessore al bilancio stiamo lavorando insieme al sindaco agli uffici ringrazio in particolare la dottoressa Paolatto alla chiusura del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 per me è la prima volta sento forte la responsabilità ma è anche motivo di soddisfazione perché nonostante ci siano gli aumenti delle utenze non sia previsto il ristoro da parte di Stato o Regione nonostante ci siano tanti conti da far quadrare riusciamo a portare a casa delle buone notizie per la città fra le misure a favore di tutti quanti c'è quella della diminuzione della fascia alta dei parcheggi cioè quelli che costano 1,40 passeranno a 1,20 euro la richiesta che ci viene da cittadini di reperire nuove aree di parcheggio dimostra la vitalità e l'attrattività della città ci stiamo muovendo in questo senso stiamo individuando nuove aree che saranno a disposizione ben presto della cittadinanza al momento aver chiuso il bilancio nel modo in cui lo chiudiamo quest'anno e quindi in maniera virtuosa ci consente di andare incontro alle esigenze di coloro che arrivano in città e hanno necessità di parcheggiare abbassando le tariffe di fascia alta e quindi agevolando cittadini e utenze e anche il commercio e la città in generale quando sono stato eletto sindaco i parcheggi nell'area del centro erano a 1,60 euro all'ora uno dei primi provvedimenti che abbiamo preso è quello di calarli a 1,40 euro avevamo promesso ai cittadini ai residenti ai commercianti che avremmo diminuito ulteriormente queste spese poi come tutti sanno è arrivata la crisi economica l'aumento di coste in materie prime l'inflazione e ci ha ovviamente messo in difficoltà la gestione del bilancio oggi però ci consente di dare di altri 20 centesimi passando da 1,40 a 1,20 e questo è un percorso che noi vogliamo continuare dipendentemente dalla solidità dei nostri conti poter calare ulteriormente quello che è un costo quando fu introdotto molti anni fa doveva essere magari un'operazione non ha tanto ma ormai i bilanci assorbono queste entrate che diventano strutturali il nostro obiettivo è quello di recuperare altre risorse per alleggerire proprio il peso su chi vive a Pordenone oppure viene a Pordenone a fare spese e a trovarci significa dare un servizio all'utenza ma dare anche indirettamente un servizio ai nostri commercianti chiudiamo con la cultura grande successo ieri sera al Duomo di San Marco di Pordenone per la centesima cantata di Bach eseguita dal coro del Friuli Venezia Giulia insieme all'orchestra da Camera di Pordenone uno degli eventi più attesi della 32esima edizione del Festival Internazionale di Musica Sacra che si concluderà il 20 di dicembre con un concerto natalizio sentiamo lunghi applausi hanno salutato ieri sera nel Duomo San Marco di Pordenone l'esecuzione della centesima cantata di Bach eseguita dal coro del Friuli Venezia Giulia affiancato dall'orchestra da Camera di Pordenone impegnata su strumenti originali nell'ambito del 32esimo Festival Internazionale di Musica Sacra dopo oltre 20 anni di attività e quasi 600 concerti in tutta Europa il coro del Friuli Venezia Giulia diretto da Marco Berrini ha fatto così tappa a Pordenone in una occasione speciale per l'ambizioso progetto di esecuzione di tutte le cantate di Johann Sebastian Bach arricchito da un evento nell'evento cioè l'esposizione dell'opera Annuncio ai Pastori del celebre pittore Jacopo da Ponte detto il Bassano un dipinto che perfettamente esprime il tema del festival cioè la speranza e che per la prima volta è stato esposto pubblicamente su iniziativa di Don Alessio Geretti curatore delle mostre di Legio un'occasione unica per vederlo da vicino e apprezzare le chiavi di lettura storiche, artistiche e spirituali prossimo evento del programma di concerti della 32esima edizione del Festival Internazionale di Musica Sacra promosso da Presenza e Cultura per la direzione artistica dei maestri Franco Calabretto e di De Nadai è proibisto per domenica 3 dicembre quando la tradizione bizantina sarà al centro della scena con l'ensemble Vox Nova Italia che onorerà Gia Cinto Scelsi a chiudere il cartellone della manifestazione sarà un emblematico concerto natalizio dal titolo Veni Spes Mundi con l'ensemble Laro Signol che avrà luogo il 20 dicembre alle 20.45 sempre nel Duomo di Pordenone Con questo è tutto grazie come sempre per averci seguiti appuntamento a domani nuova edizione del telegiornale vi lascio le previsioni del tempo una piccola pausa pubblicitaria e come sempre vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia di Telepordenone arrivederci Buona serata e ben ritrovati condizioni di tempo stabile sulla regione al mattino l'arrivo di aria fredda ha causato anche delle nevicate sui settori più settentrionali della zona montana con neve fino a Fondovale nel Tarvisiano e anche a Forni e a Voltri le correnti sono divenute poi più secche anche sostenute in quota ha soffiato vento abbastanza forte oltre i 2000 metri intorno ai 70-80 km orari vento sostenuto si è sentito a tratti anche in pianura e sulla costa farà freddo la prossima notte quindi domani mattino probabilmente oltre che in montagna anche su gran parte della pianura avremo delle gelate anche abbastanza estese intorno ai meno 3 meno 4 gradi anche in pianura i valori minimi previsti la giornata di domani con un po' di variabilità resterà piuttosto fredda di stampo direi quasi praticamente invernale tempo un po' più nuvoloso invece lunedì in prospettiva si avvicina una fronte atlantico modesto che porterà nuvolosità già al mattino più intensa nuvolosità verso sera quando ci aspettiamo delle piogge sparse su pianura e costa specie sulle zone orientali qualche debole nevicata a partire dai 600 metri di quota circa in montagna queste precipitazioni proseguiranno nella notte tra lunedì e martedì fino al mattino di martedì ancora piogge sparse poi invece un miglioramento il fronte ci lascia quindi già martedì in giornata in mattinata probabilmente avremo cielo variabile a partire da ovest schiarite su tutta la regione in serata però saranno possibili delle fosche o delle nebbie sulla pianura tempo ancora stabile in prospettiva mercoledì e poi invece un nuovo peggioramento nella seconda parte della settimana ma per queste previsioni come sempre ci aggiorneremo buona serata e buona domenica a tutti grazie a tutti grazie a tutti